Alla fine era importante vincere e convincere oggi, lo abbiamo fatto, abbiamo giocato bene i di squadra che è la cosa più importante e stiamo facendo il nostro cammino e non è vintore in più. La verità è che arrivare a vinto i gol in un campionato così importante e difficile come questo per me mi fa gran piacere, però alla fine il più importante è che con questo gol posso aiutare la squadra, il Napoli che è la cosa più importante e sono molto felice per questo. Noi pensiamo alla prossima gara con il Brescia che adesso è la cosa più importante, siamo consapevoli di che squadra siamo, però bisogna lavorare, andare sempre con la testa giusta ogni domenica e questo è quello che facciamo come abbiamo fatto oggi.